Benvenuto nel nostro campionato, Elitia Mela porta in vantaggio la Roma, dopo 7 minuti, luogo più atteso in piedi anche Francesco Totti, per ammirare questo gol, la pressione di Barossi su Migliaccio, Mela, recupera la palla, guarda in mezzo, e voilà, sul pane Lugano, nulla da fare per Torbaz, il mancino che porta in vantaggio la Roma, con gli occhi guardato il movimento dei compagni, sapeva già, doveva la porta, sapeva già cosa fare con il pallone, questo Elitia Mela, qui dietro la visita, è la curva Sud, è un Albero Roma con la regia...